Buon pomeriggio a tutti, bentornati dalla pausa caffè, teniamo duro, è quasi fatta, però siamo contenta di iniziare adesso il nostro talk perché diciamo che siamo un po' sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto e hanno apparecchiato molte delle cose che diremo e ci hanno dato delle basi autorevoli e mi fa molto piacere perché siamo tutti sulla stessa linea d'onda. Io sono Marianna Cerato, sono front-end developer e UX designer per Genevieve Partners. Si sente? Io sono Ilaria Mauric e sono user experience designer per Genevieve Partners. Perché siamo qui? Perché vogliamo parlare di brief? Infatti il titolo del nostro talk è Cosa manca ad un brief? Perché nel corso della nostra esperienza, delle nostre carriere ci sono arrivati molteplici documenti di questo tipo e ci siamo accorti che tutti quanti facevano emergere difficoltà ricorrenti, erano lacunosi in un certo senso, mancavano di informazioni che sarebbero servite molto a tutti quanti. L'altra cosa che abbiamo notato spesso e volentieri è che questi brief che dovevano essere rivolti a applicazioni, software o comunque progetti digitali erano strutturati per dare informazioni su progetti per lo più creativi. Pensiamo a un logo o una brochure cartacea, diciamo più rivolte ad un mondo reale, appunto creativo e magari a stampa. E tutto questo era fonte di incomprensioni e sicuramente faceva perdere tempo a tutti quanti. Quindi time consuming. Ci siamo posti degli obiettivi nel venire qui a raccontarvi questa nostra esperienza. Ci piacerebbe che il brief diventasse un documento autorevole per tutte le persone coinvolte nel team di progetto, che cominciasse a consegnare valore realmente, che avesse un'importanza costruttiva sin dalla fase zero del progetto. E che ci aiutasse a disegnare un perimetro all'interno del quale tutte le persone coinvolte nello sviluppo del processo potessero lavorare realmente in concerto. Faremo anche noi un po' di chiarezza su cosa intendiamo per un brief. Lo faremo anche a livello linguistico. Partiamo però intanto da proprio l'oggetto brief, che intendiamo proprio semplicemente un documento che a volte è di 5 pagine, altre volte di 100 e più pagine. Ci tocca leggercelo. Se è troppo corto, probabilmente sarà troppo poco. Se è troppo lungo, ci vuole una settimana. A volte, vabbè, formato doc, pdf, powerpoint. A volte ce lo mandano semplicemente via mail con richiesta successiva. La richiesta di solito è quindi, quando ce l'ho, quando è pronto, quanto costa. Altre volte... Non funziona? Ok. Altre volte ci chiedono invece un incontro per approfondire. E quindi riunione, approfondimento, team che viene messo in campo. L'idea del talk ci è venuta perché le richieste proprio ricorrenti in un brief che troviamo. Un attimo solo che si impalla. Faccio la manina. Ok. Scusate. Sono per esempio queste. Mi mandi il preventivo per la grafica di questo progetto. Ok. Questa è una. aspetta. Non mi sto qua vicino. Oppure vogliamo una community? Quanto costa? Altre volte vogliamo la gamification? Le regole del gioco le facciamo noi. Quanto costa? Quando è pronta? Altre volte la richiesta è un po' più, diciamo, laterale, nel senso anche questa nasconde delle insidie. Il design lo fate voi, lo sviluppo lo fa X e al resto pensiamo noi. Quindi il brief mette già i team in campo e si fa così. Sì. Queste lacune e queste informazioni non così chiare ci costringono spesso, costringono noi, diciamo, sviluppatori e professionisti chiamati a lavorare al progetto a redare un secondo documento che risponda alle domande che non siamo riusciti a chiarire. E questo cosa significa? Che impieghiamo del tempo a redare un secondo documento che magari non avrà mai nulla a che fare col primo che ci ha consegnato il nostro cliente e il nostro committente. Questi due documenti avranno magari esistenze parallele e non si troveranno mai. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo speso dell'altro tempo. Vogliamo anche dare un attimo di chiarimento al termine brief per essere tutti d'accordo su quello di cui stiamo parlando. Magari è ovvio per tutti, però fare pulizia del linguaggio mi insegnano che è sempre molto importante. Cos'è un brief? Come aggettivo il dizionario riporta che è qualcosa di breve in termini di durata, corto o estensione, qualcosa di conciso. Appunto breve esiste anche come nome e significa una frase breve, una sinossi, un abstract. Come verbo significa preparare qualcuno, istruirlo, dar le informazioni essenziali, un sommario. Appunto significa anche fare un sommario. Da brief e briefing si dà il nome a quella riunione normalmente che dovrebbe essere breve in cui appunto queste informazioni vengono trasmesse alle persone chiamate a realizzare un progetto. E da questa riunione nasce un breve sommario scritto, un documento che dovrebbe essere una linea guida per chi può partecipare al progetto, il brief appunto. Non stiamo parlando di questo. Anche se siamo due ragazze in una conferenza di sviluppatori non stiamo parlando di questo, ma stiamo parlando di qualcosa di breve, sintetico e informativo. E spesso ci siamo accorte che non è così. E soprattutto vogliamo situarlo rivolto a progetti digitali. Chiarito questo vogliamo un attimo farvi capire cosa ne era nella nostra testa sulla nascita e produzione del brief. Questo è un attimo, vi faremo vedere uno schema di quello che ci siamo immaginate fosse l'excursus di creazione di un brief da parte dei nostri committenti. Sì, allora dicevamo noi facciamo design e front end, lavoriamo tanto con gli sviluppatori, quindi la prima parte della domanda che ci siamo fatti è diciamo che cosa succede a noi quando ci arriva il brief in un qualche modo. Presupponiamo che ci sia un'azienda, un ente o un committente che ha in mente un progetto nato per un qualche motivo che servirà in un qualche modo ai suoi utenti e sarà diciamo dettato da alcuni obiettivi di business, strategie eccetera. Premessa dovrebbe essere questa, questo ciaffolo mi ha abbandonato. Allora, a noi la comunicazione dell'azienda ci arriva appunto con questo documento attraverso le figure responsabili del brief che sono di solito il CTO, il CMO, divisioni tecniche eccetera, i responsabili generici del progetto che iniziano parlando del brief durante l'incontro oppure attraverso il documento ad escriverci quello che l'azienda, diciamo il dominio di cui si occupa l'azienda in un qualche modo. Noi mettiamo in campo delle figure, una persona, due persone che si studiano al brief iniziano ad entrare in quel dominio che non è il nostro. A questo punto leggendo il brief sostanzialmente iniziamo a sapere un po' di più del progetto e degli utenti ma soprattutto di tutte le persone coinvolte toccate di striscio. C'è un sacco di gente nel brief che viene citata che dovrà partecipare in un qualche modo e che forse neanche sa che esiste quella cosa ed esiste quel progetto. Sicuramente noi dobbiamo inferire queste informazioni. Esatto, le dobbiamo estrapolare, quindi ci stiamo infilando qui dentro. Questo è quello che ci siamo immaginate noi, però abbiamo voluto avere, diciamo, confermo comunque andare fuori e chiederlo alle persone coinvolte. Abbiamo redatto una piccola intervista rivolta sia ai committenti, quindi i clienti che vengono a chiederci di partecipare a un progetto e poi ne abbiamo fatta una molto speculare, simile, che abbiamo rivolto ai nostri colleghi. Non è stata una roba super scientifica, statistica della Madonna, doveva semplicemente rispondere alle nostre necessità di capire se era tutto nel nostro testo o se effettivamente era un problema sentito o condiviso. È stato interessante vedere la partecipazione delle persone, come è stato detto, come ha detto anche Raffaele Boiano, meglio un'intervista piuttosto che nessuna, meglio avere qualche dato piuttosto che nessuno. Per questo vi chiediamo se vi va di darci anche la vostra opinione di andare sul blog di GNV, qua c'è lo short tour, e rispondere al questionario. Se siete committenti ci sarà quello per voi, se siete sviluppatori idem. Abbiamo anche diviso le risposte creando delle squadre. La squadra dei blu, stile un po' Iene, abbiamo fatto l'intervista doppia. Nei blu ci sono i committenti. Cioè io, io sono i blu. Ilaria li impersonerà. E i rossi saranno i fornitori, quindi siamo noi, insomma. La prima domanda che abbiamo rivolto è da chi nascono le idee contenute in un brief? Risposte dall'editore, dalle redazioni, dal web marketing. La più bella per me sono idee nostre. necessità imposte dal customer care o dal mercato, cioè gli altri fanno così, quindi adesso tocca a noi, dobbiamo farlo anche noi uguale. Chiaramente si evince che i nostri clienti, i nostri committenti, le persone a cui ci siamo rivolte appartengono a un determinato ambito, ma questo è ovvio, quindi le risposte che abbiamo si può capire che sono di un certo ambito, non potevamo avere tutto lo scibile. Però sono indicative. Esatto, già qualcosa. La domanda seguente è stata su cosa si basa l'idea contenuta in un brief? Informazioni, obiettivi, richieste, definizione di obiettivi, KPI, budget e tempi. Qualcuno ha citato i budget e i tempi. Best practices, ottimizzazione dei flussi di lavoro, quindi magari c'è un intoppo individuato, quindi si vuole risolvere quello, si fa un progetto per esigenze del momento, aspettative sul progetto, stare al passo con i tempi. Queste qua mi piacciono particolarmente. Poi abbiamo chiesto loro chi deve approvarlo. Le risposte sono, adesso posso leggere tutte, ma sostanzialmente il capo o qualcuno sopra di me. Il CEO, l'editore, il responsabile del progetto, CMO, la direzione generale. Abbiamo poi rivolto appunto le domande molto simili, speculari e complementari ai fornitori che sono io. Esatto. Che cos'è per te un brief? Allora, per me un brief rappresenta un tentativo di descrizione di quanto il cliente crede di volere o di poter fare. E qua già vediamo un mondo di sfumature interessanti. Faccio una breve precisazione. Le risposte sono proprio una selezione delle più significative ovviamente, per frequenza diciamo di risposta che è stata data. Dove si poteva abbiamo raccolto per priorità, dove era più interessante invece le abbiamo citate. Esatto. Che informazioni ti aspetti di trovare in un brief? Mi aspetto di trovare, o spero di trovare, principali attori, vincoli tecnologici che possono insorgere, tempistiche, epic stories, business model, budget. Il budget non è un tabù, se lo dichiariamo, è una cosa utile per tutti, perché riusciamo a capire in che perimetro possiamo lavorare. Le informazioni contenute nei brief che ricevi sono quelle che ti servono? Non sempre. Alcune, ma sono molto più interessanti quelle che non trovo, perché il committente ci ha fatto il callo a non darle. Io mi sono abituato a non trovarle. Sono cose ovvie e implicite che devo andare a scovare o inferire. Nel 99% dei casi non sono utili. E poi ci sono domande che valevano per tutti e due. Questa per esempio. Cosa ti aspetti dal partner o fornitore quando gli mandi un brief? Dall'altra parte, cosa si aspetta il cliente da te una volta che ti ha mandato il brief? Qui la risposta del committente è semplicemente approfondimento, idee nuove, andiamo un po' più dentro il progetto. Molti hanno risposto così. Qualcun altro ha iniziato a citare invece i budget e i tempi. Quindi approfondimento, budget e tempi. Qualcuno invece ha detto proprio secco, onestissimo, economics e tempistiche. Quanto costa e quando ce l'ho? Ne ho bisogno. Onesto, è così. E il fornitore sa che deve dare un preventivo e dei tempi. Un preventivo a corpo? Noi ci siamo sentite di barrarlo perché non è sempre necessariamente così. Dobbiamo uscire da questo vincolo che è imposto, scolpito nella roccia come ci insegnano i ragazzi di X-Strategy. Da un altro punto di vista la parola a corpo la capiamo noi. Il cliente a corpo non sa cosa vuol dire. Lui spesso ha un budget e gli viene dato. Non ce lo dice perché è tabù, come dicevamo prima, però si può imparare insieme a lavorare meglio anche su economics. Quanto tempo è impiegata a scrivere un brief? L'abbiamo chiesto ai committenti. Abbiamo indagato un po' sui tempi. Secondo noi era un punto importante da esplorare. Minimo qualche ora, un giorno, massimo qualche settimana, non meno di un mese. E quante revisioni subisce? Minimo due, tre. In alcuni casi fino a cinque. Esatto. E tenete conto che per ogni revisione ci vuole tempo per iscrivere, ritornare dal CEO, eccetera. C'è un bel excursus da rifare. Quanto tempo trascorre quindi da quando viene inviato? A quando poi effettivamente si parte col lavoro? Stessa cosa da parte del fornitore. Io quando ricevo il brief, quando potrò veramente mettere le mani su questo progetto? Risposta, due settimane, non meno di un mese, in alcuni casi mesi e mesi. Stessa risposta per i fornitori, interessante. E i Gant, quindi la calendarizzazione interna. Vengono di solito rispettati? Il committente dice sì, a volte, mai. Noi ci facciamo una grassa risata al più delle volte. Poi vabbè, ritorniamo seri e le risposte sono state simili a quelle del committente, perché bene o male ci siamo abituati a dover dare una calendarizzazione, che in alcuni casi è un bene darsi, diciamo, delle tempistiche, degli orizzonti, però come abbiamo visto e come abbiamo detto in tanti, è bene procedere e cercare la strada a strada facendo. Quali sono i problemi ricorrenti nei progetti nati da un brief? Stessa domanda anche per i fornitori. Qui dice, cambiamenti accettati malvolentieri, mancanza di dettaglio, analisi poco approfondita. Attenzione alle nostre risposte, sono strettamente collegati. I cambiamenti accettati malvolentieri sono sintomo di rigidità e la mancanza di dettaglio, l'analisi poco approfondita genera informazioni incomplete. Quindi, dall'altra parte, che vantaggi abbiamo dai brief? Concordare a priori obiettivi e KPI, condivisione del progetto, punti di vista molteplici. Giustissimo. Se lo chiedete a Bruccia Pelo, uno di noi, diremo, esistono? Sì, esistono, perché ci danno la possibilità comunque di avere a che fare con i nostri interlocutori, di cominciare a intessere dei rapporti e di avere informazioni. Qui me lo presti un attimo. Sì, certo. Fatte queste interviste, abbiamo cercato di rivedere gli schemi che avevamo fatto al buio. Ah, ma allora quando lo tocco io? Vabbè. Quindi, in pratica, siamo andati dall'altra parte, siamo messi il cappello del committente, abbiamo detto, vediamo cosa succede davvero dal loro punto di vista. C'è praticamente un'idea che forse arriva dalla direzione, molto probabilmente, e la direzione pensa che possa essere utile per gli utenti. Come nasce questa idea? La sua abbiamo indicato il tempo? Non lo sappiamo. Può essere un incontro al bar, una chiacchierata, chissà dove, come magari mesi e mesi di gestione di un qualcosa, di un problema, eccetera. Però in questo momento è ancora a monte. È a monte, quindi lì purtroppo non abbiamo informazioni. Altre volte sono informazioni che arrivano da un livello inferiore, quindi sono redazioni, customer care, CTO, CMO, responsabili un po' più sotto, che comunicano alla direzione un problema ricorrente, un qualcosa, e quindi la direzione decide che è giusto lavorare su un progetto. A volte queste comunicazioni che arrivano sono effettivamente richieste che arrivano dagli utenti. Pensate soprattutto ai customer care, ovviamente, oppure CMO, che comunque ne ricevono in qualche modo di segnalazioni. A questo punto la direzione decide di incaricare una o più figure del CTO, CMO, a lavorare su un brief. I tempi iniziano ad essere una settimana o un mese, salvo progetti veramente piccoli, per cui si è detto un'ora, la fascia minima di tempo è questa qui, diciamo, il range best case, worst case. Poi, scrittura del brief, questo tempo, ok, notate sempre, nel brief vengono citate queste figure qui, ma non vengono quasi mai contemplate e coinvolte nella fase di scrittura. Si nominano, ma quasi mai si sono fatti incontri con loro per coinvolgere e chiedere davvero che cosa pensano. Bisogna riportare al CEO il brief, o il SIO, chiamiamolo come vogliamo, tempo di attesa, una settimana, un mese. Scelta del partner fornitore. Per scegliere un partner, il partner valuta il progetto, legge il progetto, ti dà una risposta in una fascia di tempo che è un giorno, cinque giorni. A questo punto, che investe, tempo investito, a questo punto, la scelta del partner richiede da una settimana a un mese di tempo. Ne rimarrà soltanto uno, che quindi può mettere in campo un team e iniziare a studiare, veramente a mettersi con la testa dentro il brief. Faccio presente che la quantificazione avviene nella fase prima. Probabilmente economics e tempistiche, in una fase di altissimo rischio, avviene nella fase di scelta del partner fornitore, perché il criterio dei tempi e dei costi è, nella stragrande maggioranza dei casi, il criterio con cui viene selezionato un partner. Ok? Comunque, il partner scelto lavora qui, finalmente il brief viene nuovamente riportato al CEO, un mese, da un mese a otto mesi, per dire, ok, partiamo con il progetto. Questi sono i tempi. Quello che succede, a parte, vabbè, c'è proprio, si chiama balance chain, no? Quante più passaggi ci sono nelle comunicazioni, quante più persone intervengono, e tanto più tempo passa, tanto più si diluisce l'informazione, e tanto più si perde quello che era l'idea originale. In più il brief viene affrontato in questo modo. L'idea parte dalla direzione, il dev scrive la scompatta in storie, il grafico viene chiamato per fare la grafica, colorare, poi vengono decise le user stories, ok? Le priorità su cui lavorare, quelle principali o quelle più complesse, a questo punto però il risultato finale è più, non coincide proprio. Scomposto, direi. È scomposto. Scusa. Questo perché, lavorando un po' tutti su binari paralleli, ma che non si congiungono davvero, instaura delle credenze, diciamo. Il cliente quindi, lui è tranquillo, e dice, ah, beh, il grafico si occupa della grafica, gli sviluppatori dello sviluppo fine. Sì, ok, è quello che facciamo nella realtà, però non dobbiamo lavorare in questo modo, perché altrimenti il risultato finale è tutto scomposto. L'altro assunto è che spesso il cliente è tendenzialmente ottimista sui tempi del lavoro che affida all'esterno, perché si basa sull'offerta che gli abbiamo fatto, completamente assumendoci il rischio, e lui è tranquillo, ognuno sta lavorando nel suo e si va avanti, più o meno, ok? Ci sono gli intoppi, però. Invece noi, memori di tante problematiche in progetti portati avanti in questo modo, siamo sempre tendenzialmente guardinghi, abbiamo sempre paura del classico bagno di sangue che è dietro l'angolo. Consci di questo, abbiamo appunto fatto un breve riassunto per capire come è nato il brief, abbiamo pensato di allontanarci e capire cosa manca davvero, che cosa serve per fare del better software, ma a livello zero, cioè dal brief, perché poi noi usciamo di qui, siamo nel mondo reale, nella quotidianità, e arriviamo a casa, arriva un'email che è figata, ci hanno contattati, c'è un brief però, che non ci dice le cose che ci servono, dobbiamo cominciare a monte a lavorare meglio, a fare del better software. E abbiamo cercato di trovare un po' di punti di partenza, di quelli che ci sembravano i migliori. Prima di tutto abbiamo capito che il brief o l'idea non è mai stato verificato con le persone a cui sarà rivolto, quindi se avete fatto caso, quel pallino viola è sempre stato laggiù, in fondo a destra, un po' dimenticato, e questo è male. Bisogna lavorare nell'ottica dell'utente. L'altro problema di cui ci siamo rese conto è che spesso il brief non viene verificato con le persone che vengono coinvolte poi nella fase di progetto, magari non gli attori principali, ma quelli che a un certo punto dello sviluppo saltano fuori. Pensiamo per esempio alla concessionaria di pubblicità. Noi stiamo sviluppando un progetto, abbiamo messo nei nostri wireframe, abbiamo cominciato a sviluppare, c'è quel quadratino nella cyber, sì sì, lì ci sarà la pubblicità, ok, poi ci arrivano i loro script e non vanno bene. Noi abbiamo pensato a un sito fighissimo, responsive, che non riusciamo a realizzare perché loro non riescono a servirci la divina e il formato che ci serve. E adesso? Siamo troppo là, bagno di sangue. Poi, l'altra cosa importante di cui ci siamo resi conto è che noi fornitori spesso non conosciamo realmente il dominio del nostro committente. Direi abbastanza normale, non possiamo essere onniscienti, però nel brief spesso non se ne parla, non se ne parla abbastanza e questo non ci permette di fare scelte mirate a quel dominio. Non ci siamo neanche preoccupati degli utenti, quindi lavoriamo un po' alla cieca o su esperienze. I partner, quindi, dato tutto questo, hanno paura che prima o poi finiscono nel classico bagno di sangue. Perché questo? Perché tutti e due dichiarano le stesse problematiche, bene o male. E questo è sbagliato. Grazie, Keynote. Perfetto. Aggiornato a Maverix. Aggiornato a Maverix è meraviglioso. Perfetto a Maverix è meraviglioso. In realtà, tutto questo brief, l'affrontarlo, il riceverlo, il discuterlo, richiede la bellezza di da un mese a otto mesi di tempo per arrivare quasi in alto lassù per arrivare veramente a mettere le mani al progetto. Ed è un tempo lungo, è costo, è sforzo e non è sempre utile perché alla fine magari non ci porta ad un quadro bello, ma arriviamo ad un quadro scomposto. e in più non sono previste attività di verifica. Quindi non chiediamo ai nostri utenti se è quello che realmente hanno bisogno di avere, se è quello che necessitano o se è quello che gli piacerà semplicemente. O tutto il discorso di metriche che abbiamo affrontato in tanti talk oggi. Quindi, capito cosa manca, o almeno abbiamo notato noi quello che manca, ci proponiamo di ripartire da qui e provare a lavorare meglio fino appunto dal momento zero. Come? definendo il dominio. Prima di tutto, quando ti incontri e ti stringi la mano, la prima cosa che dobbiamo fare è capire l'ambito l'uno dell'altro. E in questo caso ci sono due insiemi. Quello blu, appunto la squadra dei blu, è quello del nostro cliente o committente che ha al massimo della conoscenza e della consapevolezza di quello che è il suo ambito, il suo settore, la sua azienda e il suo prodotto. E soltanto lui può passarci questo genere di informazioni. Dall'altra parte ci siamo noi, fornitori, che si spera abbia un massimo della conoscenza, consapevolezza di ciò che possiamo fare in risposta alla sua richiesta. Perché il nostro committente viene da noi perché ha bisogno di fare qualcosa e siamo noi che dobbiamo fargliela. Quel qualcosa però deve agire e rispondere a delle necessità che nascono nel suo dominio. Dall'unione di questi due insiemi nasce il vero valore perché l'uno ottiene le informazioni dall'altro e può realmente cominciare a lavorare. Se questa intersezione manca il risultato sarà scombinato. non sarà un progetto che realmente gira bene. E poi pensiamo che un'altra cosa importante sia dichiarare la strategia di business. Che cosa significa questo Ilaria? Allora dichiarare la strategia di business non dovrebbe essere un segreto. Cioè se il committente non vi dice cosa vuole ottenere con quel progetto a mio parere il fornitore non può partire. L'ha detto Provaglio l'hanno detto tre, quattro talk penso in questi due giorni. La vision è importantissima quindi se devo scegliere una cosa da dichiarare nel brief obiettivi di business e se esiste il business model canvas. Benchmark e competitor perché siamo diversi? Chi c'è sul mercato che fa la stessa cosa? Perché la dovrei fare uguale? Che senso ha? Spesso il problema è che la risposta è non lo so. Tutti gli altri fanno così quindi se c'è questa risposta ok prenditi quegli otto mesi di cui prima per pensarci poi ne riparliamo vincoli strutturali e tecnici attori ed epic stories KPI e metriche priorità tempi e budget dichiariamolo quanti euro ci sono a disposizione e poi negoziamo scope quello che è l'ho detto x-strategi Lorenzo e Alessandro in un talk prima che non significa scegliere di qualità significa semplicemente decidere le strategie di massimo valore per quel budget che c'è in campo non è nulla di scandaloso basare la scelta di un partner sulla base di un budget scelgo quello che mi fa il prezzo migliore io non voglio scendere in questo tipo di guerra ladri di bicicletta insomma ecco non stiamo parlando la lingua giusta se la scelta avviene in questi termini ecco stiamo proprio parlando d'altro product owner e interlocutori anche qua di nuovo l'ha detto qualcuno purtroppo non ricordo che in qualche talk ah no è sempre Lorenzo e Alessandro chi è che deve dare l'ok se non arriva l'ok non è che c'è appunto qualcuno di nascosto che dà l'ok assoluto a un certo punto e tu scopri che in realtà era un altro pulire il linguaggio questo ci abbiamo tenuto perché dal nostro punto di vista spesso come i preventivi a corpo ci ritroviamo a usare delle frasi che ci aspettiamo che il nostro committente capisca i nostri tecnicismi diciamo che ci siamo accorgi spesso che diamo per scontato che il committente di fronte a noi ci capisca ma a volte è importante spiegare quello che abbiamo in mente esatto allora secondo noi mentre le altre parole non segnate ci trovano abbastanza d'accordo tutti quanti su obiettivi il significato di obiettivo attori ed epic stories va un attimo chiarito l'obiettivo è il fine di un'azione vi ricordate no? le due i lungo azzurri in mezzo alla strategia i rossi dall'altra gli azzurri devono dichiarare nel brief che cosa vogliono ottenere quindi il fine di un'azione i rossi dovrebbero dire fare fanno l'azione quindi l'azione in campo con quel budget con quelle cose possibili sono queste ok? definire un obiettivo attraverso questi parametri quindi un obiettivo voglio la grafica del sito non è un obiettivo ma perché non risponde a questi parametri cioè semplicemente non è specifico non è misura forse accettabile rilevante non lo so può darsi di no a me è capitato di consegnare progetti in wireframe Violo lo sa non arrivavo alla grafica perché bastava un wireframe era molto più importante arrivare sul mercato e testarlo e deve essere tempificato e tracciabile Sì infatti l'obiettivo è diverso dagli strumenti e dalle azioni gli strumenti e le azioni sono ciò che ci portano a raggiungere questo obiettivo e ci abbiamo tenuto veramente a fare queste slide perché spessissimo incappiamo tutti ma anche noi fornitori a volte in questi errori la grafica come ha detto lei non è il fine la grafica è un mezzo per parlare una lingua è iconografia semplicemente ma anche la community non può essere l'obiettivo di un'azienda la community è uno strumento per diventare un punto di riferimento per il tuo utente in un determinato ambito la gamification anche qui non può essere l'obiettivo ma deve essere uno strumento magari di fidelizzazione perché più l'utente è fedele a ciò che gli do e più io avrò un ritorno economico e quindi la mia azienda prospererà detto questo questi sono veri obiettivi come citavo prima anche ridurre ridurre i costi di assistenza è un fine perciò faremo scelte di sviluppo atte a questo fine abbiamo voluto pulire anche il termine di attori attori anche qui cari committenti quando parliamo di attori se riuscite provate a dirceli altrimenti in fase proprio di studio del brief vi aiutiamo a scovarli per attori intendiamo anche un sistema di fatturazione per esempio devo fare un modulo di e-commerce che però è collegato a un sistema di fatturazione a un magazzino quelli sono attori ok altre volte sono invece persone quindi non so il customer care che dovrà rispondere in particolare a situazioni di inghippo e ovviamente c'è il nostro utente finale c'è il nostro utente finale che avrà ovviamente un ruolo e avrà diverse però entriamo nel campo delle persone adesso non apro questa cosa qua perché è immensa però ovviamente anche gli utenti finali sono attori e avranno corrispondono a determinate caratteristiche a determinati profili gli attori sono coloro che faranno determinate azioni all'interno del nostro sistema e queste esperienze le esperienze di questi attori come è stato definito in maniera ottima da Raffaele ieri le azioni appunto che loro effettueranno si possono riassumere in storie più storie possono essere raggruppate in epic stories che sono un po' il materiale che ci aiuta ad avere una traccia nella composizione di questo progetto ancora in via di definizione e avere uno storyboard in un certo senso o comunque il nostro elenco di epic stories ci aiuta a costruire noi a dare una priorità alle fasi di sviluppo a tracciarci una sorta di roadmap o comunque un'opzione di roadmap come ha detto benissimo prima provaglio questo perché perché noi abbiamo la necessità di verificare la sostenibilità dei nostri obiettivi in ogni fase del progetto quindi prioritizzando le azioni che dobbiamo fare sicuramente abbiamo la possibilità di misurarle e quindi di partire da dati reali quando diamo un consiglio o comunque proponiamo una soluzione e tutto questo ci permette di andare a scovare le possibili magagne prima di presentare la soluzione per il progetto al SEO perché dopo voglio spiegare che non lo puoi fare grazie poi alle priorità di rilasci noi riusciamo grazie a obiettivi e metriche a fare una priorità di rilasci che ci permette eventualmente di andare online con il nostro progetto non quando sarà tutto finito perfetto avremo speso un gozziglione di euro messo un anno di lavoro per scoprire che non era la cosa giusta magari andando avanti per piccoli passi che possono però stare in piedi da soli riusciamo effettivamente a testare sia se i nostri obiettivi sono insostenibili che sia se gli utenti possono avere realmente quello che gli serve l'altra cosa importantissima è ridefinire i ruoli nel senso basta dire che il designer è un creativo che fa la grafica lo sviluppatore è un nerd che sta davanti al computer e sviluppa per i cavoli suoi no non è così noi fornitori dovremmo arrivare a essere un po' consulenti un po' coach e sicuramente agire abbastanza in una maniera paritaria con il nostro committente e poi la cosa più importante dobbiamo smettere di pensare che l'utente è quell'entità che appare alla fine del progetto e genera impressions e statistiche non è soltanto questo perché se la vediamo così rischiamo di fallire in ogni momento condividere la design vision qui è piuttosto cruciale anche piuttosto complesso è già complesso farlo quando siamo in un'azienda magari stiamo lavorando tutti sullo stesso prodotto siamo tutti un team se poi addirittura come abbiamo visto nei vari flussi i team iniziano ad essere esterni interni ognuno ha esperienza nel suo dominio si innescano delle dinamiche che non è esattamente facile e il responsabile del brief è incaricato in un qualche modo ha la fiducia la responsabilità il potere di gestire questa fase e questo aspetto dei progetti condividere la design vision a nostro parere di designer è però ovviamente un punto cruciale perché se il customer care o il sistema di fatturazione non funzionano non vengono corretti non vengono informati in un certo modo il progetto almeno da quel punto di vista in quei punti è quasi secondo me destinato a fallire nell'esperienza nostra succede così proviamo a immaginarci se un progetto partisse da un'opportunità quindi l'azienda ci chiama il committente ci chiama nel momento in cui intravede un'opportunità di business ci chiama lì e mette in campo un team multidisciplinare niente non funziona non vanno un team multidisciplinare subito all'inizio prima di fare 7000 passaggi dei documenti il team va a verificare sul campo la situazione perché se chiama un team esterno è quasi sicuro che il dominio non lo conosce questo per esperienza quindi vai lì se stai facendo un lavoro per dei commercialisti senti il customer care e inizi a sentire guarda che le richieste più frequenti oppure vai a parlare con qualche commercialista e vedi di che cosa stiamo parlando a questo punto il team dichiara ad alta voce tutte le idee che vengono fuori le mette davanti se le spiattellano tutti in faccia e magari iniziano a lavorarci tutti quanti insieme fare pale sketching non è una bestemmia cioè lavorare a bassa risoluzione tutti quanti iniziare a mescolare idee significa che il team sta lavorando e appunto condividendo la design vision l'importante è notare che nel team multidisciplinare c'è anche la squadra dei blu è fondamentale questo sì a questo punto si possono iniziare a scrivere le epic stories dettagliarle sempre meglio e piano piano la nostra immagine che era scomposta prima assomiglia e risponde sempre di più a quella che non era voglio una community ma voglio raggiungere i miei utenti con i dispositivi perché ormai ho notato che ci raggiungono soltanto così per esempio quindi un'opportunità c'è poi un altro aspetto questa cosa del dominio secondo noi è cruciale qui abbiamo messo in un grafico quando si lavora in un'azienda quindi tutti nello stesso team chi inizia a lavorare deve essere istruito in un qualche modo poi deve essere addestrato sostenuto e mano a mano si passa ad un sistema di deleghe quindi si prende delle responsabilità quando i team sono esterni ognuno ha un'esperienza nel suo dominio qui sono speculari però quindi abbiamo messi conoscenza del dominio si incontra lì in mezzo c'è la strategia qui in mezzo quando due team che lavorano su domini diversi si parlano e iniziano a passarsi le informazioni non vanno a darsi istruzioni in domini che non conoscono quindi un team che fa che si occupa di non so ordini modulo d'ordini per non lo so inventiamoci qualunque cosa non mi va a dire come lo deve fare a livello digitale da mobile ok viceversa non mi aspetto il contrario cioè se io non conosco come funziona il tuo modulo d'ordini prima che non me l'hai spiegato non posso non posso dirtelo non posso fornirti degli strumenti non posso fornirti strumenti quindi si muove tutto nel sistema di deleghe e di sostegno diciamo ti sostengo finché non ti ho passato informazioni sul dominio dopodiché delego la mia fiducia quindi c'è si parla praticamente di fiducia che bisogna costruire e poi di delega delle decisioni di responsabilità di responsabilità e di decisioni e di parità questo apre un mondo perché si parla di leadership situazionale cioè ci sono veramente adesso non entriamo nel dettaglio però si apre un mondo rispetto a queste cose diciamo questo tipo di proprio nelle relazioni interpersonali nell'interpretazione dei ruoli eccetera però quello che dovrebbe succedere ecco ricordiamoci che quando lavoriamo su un progetto dove i domini sono diversi dovremmo muoverci in quelle due aree lì delega sostienimi e poi delega quindi tutto questo ci permette di trarre delle buone pratiche innanzitutto per noi perché è importante fare sempre dell'autocritica direi e cercare di crescere la cosa più importante secondo noi è chiedere sempre perché ask why 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 and why l'ha detto Zurb la settimana scorsa ha pubblicato un manifesto bellissimo l'avete detto 10 minuti fa l'hanno detto i nostri colleghi prima ed è veramente la chiave chiedere sempre perché perché dove stiamo andando perché vuoi fare questo sicuramente sono i macro perché ma anche i micro perché di ogni piccola fase sono importantissimi perché fanno emergere problematiche che prima magari non avevamo notato fanno emergere dubbi fanno restare a bocca aperta e non avere una risposta e questa è la chiave per cominciare a lavorare se abbiamo bisogno di risposte le cercheremo e probabilmente le troveremo anche almeno speriamo e l'altra cosa che dobbiamo fare noi fornitori è guarire dalla sindrome me l'avete chiesto voi alzo le mani tu mi dici quello che devo fare io lo faccio sì va bene può funzionare alcune volte quando proprio sbatti contro il muro e rimbalzi ma non dovrebbe essere la norma anzi dovremmo imparare a prendere la responsabilità di dire guarda no non è la scelta migliore perché vuoi fare questo ti dico che magari se facciamo questa strada è meglio l'altra cosa importante è chiedere perché alle persone giuste cioè individuare interlocutori e product owner perché chiarire chi fa cosa è fondamentale per non perdere tempo andare a rivolgere le domande alle persone sbagliate o avere risposte dalle persone che poi non possono assumersi la responsabilità di quello che hanno detto l'hanno detto prima Alessandro e Lorenzo l'altra cosa utile potrebbe appunto essere basare i rilasci sulle priorità andare avanti per piccoli step e misurare basta dire quindi che per tutto ci vuole un anno di sviluppo che è una roba impossibile infinita costosissima perché più limitiamo la fase d'azione e più riusciamo ad avere un orizzonte visibile dei costi anche inferiori perché è possibile su questo c'è una piccola storia proprio di successo proprio adesso la racconto proprio brevissimamente e tutto questo lo facciamo solo un attimo solo un secondo c'era un sistema di notifiche stiamo lavorando a un sistema di abbonamenti lo stiamo facendo funzionare in modo diverso deve dare delle notifiche alcune notifiche via mail alcune notifiche degli alder che compaiono lì la risposta che ci è stata data dal team di sviluppo era ci vuole un anno per queste cinque notifiche perché dietro stavano costruendo un sistema complessissimo di gestione di notifiche alla Facebook alla non lo so quindi era un CMS gigantesco quindi noi non potevamo attivare quel sistema finché quello non era pronto no anche no però usciamo da queste situazioni soltanto parlando noi cioè chi sta facendo la UX parlando con gli sviluppatori e trovando insieme in concerto in questo team multidisciplinare nel perimetro che si è creato trovando le soluzioni più efficaci per lavorare bene insieme si può fare si fa noi voglio dire ci proviamo magari non abbiamo scoperto loro però ci proviamo si sbaglia però proviamo e l'altra cosa importante è rinunciare al proprio ego perché innanzitutto si lavora in un team ed è fondamentale stare a sentire le necessità e le opinioni delle altre persone e poi la cosa più importante è che le scelte non le dobbiamo basare su quella che è per noi come sviluppatori in quel momento il linguaggio che ci è più congeniale ma dobbiamo basare gli strumenti che decidiamo di utilizzare su ciò che è più confacente e più utile al nostro progetto sempre nell'ottica di far beneficiare l'utente finale di quello che noi stiamo costruendo perché se l'utente finale è contento l'azienda del nostro committente dovrebbe prosperare si spera e quindi noi avremmo raggiunto il nostro obiettivo abbiamo quindi risintetizzato tutto con i nostri schemini dall'idea abbiamo immaginato che si mette in campo subito questo team interdisciplinare che è composto dalle persone che fanno parte dell'azienda quindi CTO SIEMO Technical Digital Unit responsabile di progetto vari ed eventuali e i professionisti chiamati subito in causa alla nascita di questa opportunità di progetto e in questa fase primordiale iniziale di analisi bisogna sempre tenere in considerazione quelli che saranno gli utenti e quelli che saranno gli attori coinvolti anche solo tangenzialmente ma che ad un certo punto potranno diventare fondamentali o poter costituire dei roadblock o poter essere dei lati bui che non abbiamo considerato per la buona riuscita del nostro software lavorando insieme noi ipotizziamo che il tempo si riduca al best case di prima quello che non avete potuto vedere che sia di circa un mese due mesi questa attività ma la cosa più importante è che è già fase lavorativa vera e propria vantaggio appunto questo meno spreco meno spreco di tempo meno dispersione delle informazioni perché se i team sono composti dalle persone che poi lavoreranno realmente c'è meno dispersione delle informazioni non si realizza il classico telefono senza fili e quindi avremo meno rischi nel proporre delle soluzioni nel budgettizzarle anche perché benché andiamo avanti per piccoli passi a un certo punto dovremmo dire ai nostri committenti quanto gli sta costando quello che noi gli facciamo le riunioni quindi sono realmente operative è già lavoro che stiamo facendo ci stiamo già in realtà sporcando le mani e questi team multidisciplinari permettono di orientare le scelte consapevolmente proprio perché hanno lavorato come abbiamo detto prima buttando sul tavolo le conoscenze le informazioni di ciascuno che in quel momento è un po' uno stakeholder di ogni fase e abbiamo un attimo sintetizzato il tutto in questa slide finale in cui potete vedere un attimo quelle che sono secondo noi secondo la nostra esperienza i cinque punti chiave per affrontare bene l'inizio di un progetto e poi chiaramente abbiamo ringraziato le persone che ci hanno dato una mano ci hanno sopportato con le nostre ansie e paure e ci hanno disegnato e hanno risposto alle interviste che se vi va potete compilare anche voi e poi magari la prossima volta ne sapremo di più domande? domande? ci sono domande? non possono non esserci domande? domande? non voglio essere frainteso non è una speculazione diciamo così no specula noi abbiamo speculato per un'ora perfetto allo scorso Gel Day c'è stato un keynote iniziale che è stato fantastico dove non mi ricordo chi ci sono dei video sul canale dell'università di Milano dove hanno fatto le Gel Day dove lui ha presentato questa tecnica di progettazione che è la 3 thinking insomma la tecnica dell'uso del foglio A3 come? sì esatto non mi ricordo comunque però evidentemente lui e io ci ho perso la testa è bellissimo perché mi sembra un modo razionale di organizzare le informazioni che possono essere anche il risultato di un brief cioè quello che manca in questo foglio evidentemente è un problema insomma mi rendo conto che è proprio un ausilio per raggiungere quello di cui stavamo parlando cioè un qualcosa che sia utile esatto esatto esaustivo però purtroppo tristemente in azienda non riesco a farlo perché comunque per tante ragioni non riusciamo a farlo e mi chiedevo l'avete mai considerato visto che si sposa perfettamente con quello che abbiamo detto l'avete mai considerato l'avete provato però tutto sommato non vi ha soddisfatto per cui siamo alla ricerca di un qualcosa di più oppure no allora posso continuare a sperare che prima o poi ce la farò a usarlo in questo momento non ho presente benissimo il keynote sì non ho sentito parlare però vado a bomba sulla risposta posso chiederti dopo se mi dai il link dopo se ci dai il link volentieri perché ce l'ho nebuloso in testa però il discorso di documenti diciamo complementari noi non diciamo che non siano utili anzi noi scriviamo un sacco di appunti non è tanto quello e noi volevamo mirare più sul discorso della collaborazione dell'interdisciplinarità cioè veramente mettersi a lavorare insieme come team perché riassumere le informazioni e metterle in ordine in un documento è qualcosa che è utile anche in un team di questo tipo però in realtà noi volevamo porre un attimo l'accento sul fatto che a volte nei brief troviamo dei percorsi già dati un po' per scontati quando in realtà non si ha ancora realmente la consapevolezza di dove si sta andando a parare perché non ci si è posti le domande giuste a monte e a volte non si ha nemmeno le capacità di porsele perché non fa parte del proprio dominio e quindi ci vuole una persona che fa quello di mestiere che ti fa la domanda giusta io lancio una provocazione allo stesso modo in un sistema tipo quello che abbiamo ipotizzato attendere potrebbe essere che il brief non viene fatto per niente o viene fatto dopo sono tutti lì a lavorare direttamente cioè si decide in quel momento qual è il modo migliore per definire quelle cose che servono ma non è più neanche una formalità utile a quel punto stai già lavorando esatto è chiaro che ci deve essere un contatto iniziale e la persona che manda un'email a un'azienda deve un attimo riassumere ciò di cui ha bisogno chi è insomma un minimo di dettaglio è chiaro che ci deve essere però quello che noi vorremmo dire è che forse spendere da un cioè fino a un mese per preparare un faldone che poi spesso e volentieri si può riassumere in tre pagine veramente utili per il fornitore non sappiamo se sia il modo giusto di continuare a lavorare ma non abbiamo la risposta stiamo ponendo una domanda e ci stiamo chiedendo se anche per voi è così altre domande? già avete un po' accennato questo la risposta alla domanda che sto per farvi prima domanda sono tre con che aziende lavorate non il nome se non si può dire ma la tipologia due se loro si rendono conto che quello che fanno è un'incrostazione che hanno perché non è sostanzialmente utile ai fini di quello che si deve fare e tre se voi siete riuscite in qualche modo a farglielo capire non andando lì e dicendogli guardate perdete otto mesi per fare qualcosa che si può fare in un mese ma se poi come dire questa cosa passa o se è semplicemente una riflessione che fate voi come va? vai tu grazie forse non mi ricordo più l'ordine provo no aspetta magari sì ok sono aziende in questo caso quelle che abbiamo interpellato fanno parte alcune dell'ambito editoriale altre sono aziende commercialisti con un progetto un progetto come ci sta vedendo impegnati da tanto tempo è un prodotto per gli avvocati sì noi abbiamo sconosciuto per fortuna sì per questo talk abbiamo abbastanza escluso le start up perché in un certo senso ci facilitano ok facilitano un po' tutti stiamo parlando di aziende classiche in un certo senso ok sì le persone con cui abbiamo a che fare si sono rivolte a noi col classico brief abbiamo provato a spiegare loro che si poteva lavorare magari in maniera diversa e si sono rese disponibili a provare a lavorare con noi cioè quello che cerchiamo di fare è spiegare che abbiamo questi metodi che ci hanno fatto lavorare meglio in piccoli progetti e cerchiamo di spostarli anche su quelli più grandi è un lavoro che stiamo facendo insieme e credo che si stia realizzando questa collaborazione perché c'è fiducia attualmente perché andando avanti a piccoli passi rilasciamo del valore diciamo abbiamo dei deliverables che loro comprendono approvano per iterazione e ci aiutano a costruire in realtà perché come dicevamo prima i rilasci che effettuiamo vengono condivisi dal team e nel team ci sono queste persone quindi noi realmente lavoriamo gomito a gomito con il personale che fa parte di questa azienda non è semplice perché comunque sia noi che i committenti a volte siamo ancora incatenati a vecchie abitudini e anche per i più giovani per i più dinamici agili fighi a volte si incappa nell'errore e poi comunque ci sono dei vincoli strutturali con cui vai a sbattere ci sta però attendere magari riusciamo a lavorare tutti meglio e comunque ci sono aziende che al primo contatto ci hanno chiesto come lavoriamo le abbiamo spiegato questo sistema e ci hanno detto sì ok ti mando solo altre informazioni vediamoci per l'analisi che noi cerchiamo di farci pagare adesso timidamente sembra una vergogna perché effettivamente comporta un discreto lavoro di parecchie persone e rilascia del valore quindi stiamo provando tutto sta nello spiegare cioè in quei due insiemi che si uniscono chi voleva fare io ciao allora prima di tutto complimenti è stato un ottimo lavoro mi è piaciuto molto il vostro talk grazie siccome molto spesso anche io mi trovo a misurarmi negli stessi ambienti mi è venuto in mente cioè lavorando provando a lavorare come dite voi con piccoli team che includano una parte sostanziale della forza lavoro del cliente quindi avendo uno studio approfondito prima di formulare quelle che possono essere delle ipotesi che il vero limite di lavorare in questa maniera è il fatto che lavora troppo bene cioè che riesce a far venire fuori un mucchio di problemi un mucchio di insight un mucchio di cose che molto spesso collidono con l'idea che è venuta al CEO abbiamo detto prima dicevate voi l'idea viene da qualche parte lassù arriva a terra nella testa del CEO e crea conflitto crea conflitto tra quello che è il team interno e il CEO e quindi crea over head paradossalmente crea un'inefficienza all'interno della struttura di produzione che francamente non so minimamente come affrontare voi avete idea? posso rispondere io? è assolutamente vero faccia con questo per me la parola magica è quella di Lorenzo Violo negoziare allo scope cioè nel momento in cui ti accorgi che sta per succedere questo e per rispondere anche a prima ma sia chiaro che nessuno sta prendendo in giro nessuno che spesso una richiesta cioè voglio fare la community non è una richiesta cioè uno non si sta rendendo conto di quello che sta chiedendo ci sono centomila cose che puoi fare metteranno in crisi tutti loro ok? perché non hanno capito esattamente quante dinamiche cambia in azienda allora il trucco sta nel decidere delle centomila cose che puoi fare quali sono quelle che rientrano nel tuo budget e che danno il valore maggiore all'azienda per risolvere quelle magagne che poi avranno quindi è proprio quasi psicologia oltre che strategia e noi iniziamo a muoverci tanto lì proprio io cito anche Volpon ha detto giustissimamente nel suo talk diceva quando tu al designer non è che devi solo piazzare un sistema di raccomandazioni su una pagina la prima cosa che si chiede ma siamo sicuri che serva? quando tu inizi a entrare in questo meccanismo in questa dinamica scopri che in realtà c'è arrivi a scontrarti con cose del genere quindi forse quella cosa lì quella storia lì inizia a scendere in priorità oppure la fai subito perché poi dici te la faccio adesso col minimo sforzo così non mi mangio tutto il budget in modo che voi affrontiate quelle criticità che forse non ti rendi conto che avrai quindi è un gioco di ruoli sostanzialmente e poi alla fine insomma devono essere tutti contenti ognuno deve sbattere il muso dove lo deve sbattere anche noi lo sbatteremo mille volte compromessi esistono e a volte sono la chiave per trovare il giusto mezzo ci scontriamo tutti i giorni anche noi col mitico che ha l'occhio di Sauron e arriva e ti distrugge qualunque cosa tu hai cercato di mettere in piedi però voglio dire abbiamo la facoltà di spiegarci e proviamo a dare delle giuste motivazioni di quelle che sono le nostre risposte e a volte succede che dall'altra parte c'è anche l'amministratrice delegata che decide di partecipare alla riunione preparatoria e dice cacchio non ci avevo pensato però è una bella idea io ero partita con questa idea qua che mi hanno detto dall'America che gli altri del nostro gruppo fanno così però effettivamente forse per il nostro mercato è meglio questo e te lo dice lei che ha il polso del suo mercato a me il mercato è di sicuro perché non ne prendo grazie mille grazie grazie grazie